Siamo in del repertorio degli standard che è Campa Ewing e questo arrangiamento è molto particolare perché è stato scritto per il bellissimo Kurt Ewing quindi è un arrangiamento molto, diciamo, diverso dall'allocinale, senti io. Siamo in del reto 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 Sì Siamo in del reto Siamo in del reto Siamo in del reto Sì 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il prossimo è un brano del repertorio di Campesi In particolare questo arrangiamente va per l'originale scritto da Frank Foster per Ella Fitzgerald Grazie a tutti 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 Grazie a tutti